Bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a visitare il Mont Saint-Michel. Il Mont Saint-Michel è un'isola rocciosa situata sulla costa della Normandia, in Francia. È famoso per la sua maestosa abbazia medievale, che si erge sulla cima dell'isolotto, creando un'immagine iconica. L'abbazia del Mont Saint-Michel è un capolavoro dell'architettura gotica e risale all'VIII secolo. Costruita interamente in pietra grigia, l'abbazia è circondata da mura fortificate che la rendono un autentico castello fortezza. Nel corso dei secoli, è stata un importante centro religioso e di pellegrinaggio. Per raggiungere l'abbazia, si può camminare lungo un ponte pedonale che collega l'isolotto alla terraferma. Durante questa passeggiata, si possono ammirare le spettacolari vedute sulla baia circostante, che è caratterizzata da rapide maree che salgono e scendono rapidamente. Una volta all'interno dell'abbazia, i visitatori possono esplorare le diverse parti dell'edificio, come la chiesa principale, le cappelle, i refettori e le celle dei monaci. L'architettura gotica è evidente in ogni dettaglio, con le sue volte a crociera, le vetrate colorate e gli intricati dettagli scolpiti. Oltre all'abbazia, il Mont Saint-Michel ospita un affascinante villaggio medievale, con strade strette e acciottolate, case in pietra e negozi che vendono prodotti locali e souvenir. Perdersi tra le vie del villaggio offre un'esperienza unica, facendoci immergere nell'atmosfera del passato. La posizione del Mont Saint-Michel, circondato dall'acqua della baia, crea un paesaggio spettacolare. Durante l'alta marea, l'isolotto sembra emergere come un'isola isolata, circondata dall'acqua, mentre durante la bassa marea, si può camminare sul fondale sabbioso e scoprire la bellezza naturale della baia. In conclusione, il Mont Saint-Michel è un luogo straordinario che combina storia, architettura e bellezza naturale. L'abbazia imponente e il villaggio medievale sono una meta imperdibile per i viaggiatori, offrendo loro l'opportunità di immergersi in un'atmosfera unica e di scoprire la grandezza di questo affascinante luogo.